Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze-Scandice e l'allacciamento con la 11 in direzione Bologna. E proprio sulla 11 si segnalano code sempre a causa del traffico intenso tra Firenze-Ovest e Prato in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione Firenze. Passiamo alla FIPI-Lì e anche qui a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze e rallentamenti tra la Strassigna e Firenze-Scandici in entrambe le direzioni. Cantieri di Firenze per il restauro di una facciata da domani 7 dicembre a giovedì 9 dicembre sarà in vigore un divieto di transito in via della Petraia tra via Reginaldo Giuliani e via Giuliano Ricci. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!